e passiamo un bel veicolo commerciale un renault master furgone molto apprezzato perché assolutamente molto affidabile consumano anche relativamente poco cassonato con un bel cassone adesso vado subito al cassone poi vi do i dati tecnici del veicolo allora il cassone potrà essere chiuso per bene anche con questi gli aggiuntivi che sono indispensabili eccolo qua ben tenuto si parla di 3 metri 90 di lunghezza due metri e dieci a terra di larghezza e oltre due metri di apertura insomma di luce porta veicolo molto fresco in ordine questo è un dicembre 2018 lo mostro entrambi i lati gommato bene anzi quasi quasi nuove dicembre 2018 classico motore 2003 turbodiesel con catena distribuzione euro 6b ben tenuto guardate che belli anche i sedili proprio veramente ben tenuti vediamo se riesco a inquadrare bene i chilometri 63 6 in questo momento quindi anche fresco e poco sfruttato chilometri che sono sempre certificati in fattura con anche lo storico tagliandi quindi con tutto il tutto ben redatto e preciso radio bluetooth climatizzatore insomma ogni comfort cambio manuale a sei rapporti andiamo subito a vedere apprezzare insomma manettini ma anche per il comando proprio del radioifonia cruise control insomma ormai questi mezzi sono tutti molto simili ma molto anche ben equipaggiati per poter viaggiare lavorare soprattutto in serenità il furgone è veramente fresco ma non è l'unico che abbiamo infatti abbiamo anche master così ne abbiamo 5 o 6 tutti alle 2 h2 molto freschi eccoli qua abbiamo un altro uguale a questo sono tutti sotto gli 80 mila chilometri più o meno quindi tutti i veicoli molto freschi comunque veniteci a vedere insomma a trovare per provare questi veicoli toccarli con mano come sempre certifichiamo chilometri e tagliandi e garanzia 12 mesi